Quante volte ti è capitato di chiedere al tuo potenziale cliente se ha previsto un budget per poter accedere al tuo prodotto o servizio e di ricevere come risposta non abbiamo idea, non abbiamo un budget, zata! Facci tu una proposta. Preso dall'eccitazione e dal tuo senso del dovere, torni in ufficio o in auto e prepari quanto richiesto. Questo lavoro può richiedere molto tempo e quando finalmente hai terminato e invii la tua proposta o comunque gli rapporti di persona successivamente gli aspetti un feedback positivo, che spesso però non arriva. Perché secondo te accade questo? Perché è cattivo il prospect? Direi di no, piuttosto perché non l'hai qualificato bene.